Quali sono i disturbi piastrinici? I disturbi piastrinici sono condizioni mediche che coinvolgono le piastrine, un componente del sangue che è fondamentale per l'emostasi oltre a molte altre funzioni corporee. Ci sono un gran numero di condizioni che cadono sotto l'ombrello dei disordini piastrinici e ci sono una serie di cause per tali condizioni. Quando ai pazienti viene diagnosticata una condizione relativa alle piastrine, esistono diverse opzioni di trattamento che possono essere utilizzate per affrontare la condizione e la causa sottostante. Esistono due tipi principali di disturbi piastrinici, disturbi legati al numero di piastrine e problemi relativi alla funzione delle piastrine. I pazienti possono avere conteggi piastrinici che sono artificialmente alti o bassi o piastrine che non funzionano correttamente. Queste condizioni possono essere ereditate o meno, e possono essere immunomediate, il che significa che è implicata una funzione anormale del sistema immunitario, oppure potrebbero non esserlo. Determinare il coinvolgimento dell'ereditarietà e del sistema immunitario è importante nella diagnosi e nel trattamento. Disturbi in numero possono essere causati dalla sovrapproduzione o insufficienza di piastrine nel midollo osseo, insieme a tassi anormali di distruzione o sequestro nel corpo. Questi tipi di disturbi piastrinici possono spesso essere diagnosticati con un conteggio ematico in cui viene estratto e testato un campione del sangue per scoprire di più sul numero di piastrine attive nel corpo. Problemi con funzioni come la malattia di Bernard Soulier e la malattia di Von Willebrand coinvolgono numeri piastrinici che sono normali, con un problema nella funzione fondamentale delle piastrine. Queste condizioni sono spesso genetiche, coinvolgono una proteina codificata in modo improprio, ma possono anche essere acquisite. Se un paziente ha un sospetto disturbo piastrinico, di solito viene indirizzato a un ematologo, un medico specializzato in disturbi del sangue. L'ematologo può raccomandare ulteriori test per saperne di più sul disturbo del paziente e sulle possibili cause, inclusi esami del sangue, campioni di midollo osseo e test genetici. Una volta che la condizione è stata diagnosticata, il medico può determinare quale trattamento sarà più appropriato. In caso di patologie congenite, potrebbe non essere possibile curare i disordini piastrinici, ma le condizioni possono essere gestite in modo tale che abbiano meno probabilità di interferire con la qualità della vita del paziente. Altre disturbi piastrinici possono essere risolti trattando una causa sottostante. Il paziente può essere obbligato a seguire appuntamenti permanenti con un ematologo per verificare i primi segni di cambiamento e sviluppare complicanze che potrebbero indicare che sta emergendo un problema serio.